Stop & Go di Giuseppe Nicastri ha preparato per voi un ricco e assortito menu per il giorno di Pasqua con soli 28 euro, mentre per la Pasquetta troverete un menu a base di grigliata di carne alla brace. Tutti i giorni vi aspettiamo per la prima colazione, a pranzo e a cena, anche per una gustosa pizza cotta nel nostro forno a legno. Stop & Go mette a vostra disposizione i propri locali per festeggiare ogni tipo di evento, matrimoni, comunioni, lauree, battesimi, feste di compleanno per i vostri bambini e quant'altro. Stop & Go è anche una rinomata pasticceria con tante specialità come la cassata siciliana. Stop & Go di Giuseppe Nicastri si trova a Villa Grazia di Carini sulla strada statale 113 per pernotazioni 338 26 95 948.